e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi sono qui e vi faccio vedere un altro film della Clint Eastwood collection e sto parlando per qualche dollaro in più questa volta Clint Eastwood ha la forma di un attore e il regista è Sergio Leone ecco qua con le musiche di Ennio Morricone per qualche dollaro in più bella immagine di copertina qui abbiamo il laterale eccolo qua qui abbiamo il retro tutto bianco per qualche dollaro in più abbiamo un po' di drama i contenuti speciali entrevista inedita Sergio Leone e curiosità su cast altre informazioni film per tutti andiamo a vedere l'interno tutto bianco con il semplice rischetto pure bianco con il titolo eccolo qua e niente ragazzi mettete vi piace commentate iscrivetevi al canale e come sempre ci vediamo al prossimo video ciao a tutti belli